Andiamo e andiamo ragazzi belli, si vince anche a Brescia o solo a Brescia, grande vittoria, bella, bella, bella Anche se il primo tempo devo dire un po' mi avevano fatto tremare, vedevo della confusione in difesa un po' troppo evidente Che comunque c'è stata tutta la partita perché quei tre dietro ragazzi, madre santissima, messi male secondo me Però di questo ne parliamo domani insomma anche perché c'è un attimino da riflettere su quello che hanno fatto Per dirvi comunque i bagnez, tanto fisico tanta cosa ma il dietro confusione incredibile Ma davanti non ti va a segnare il buon Fazio innanzitutto perché poi Fazio, vabbè ragazzi Fazio è arrivato alla frutta Fazio è arrivato alla frutta, santo di Dio ha segnato oggi per carità utilissimo Da calcio d'angolo dovevamo segnare, non è un gol di testa quindi non è che siamo qui a festeggiare finalmente un ottimo gol di testa Comunque sul calcio d'angolo la Roma c'è stata oggi bella presente, tutti in tribuna come al solito Uno si è abbassato, ha finito sul piede, ha segnato, ringraziamo il cielo e poi il gol del bomber L'arma finale ragazzi, quando Kalinic poi segnerà in finale di Champions League e di Europa League E voi esulterete perché tornerete tutti sul carro di Kalinic e vi farete la sua maglietta Poi vi pentirete per tutti gli insulti che gli avete tirato durante l'anno L'arma finale a un certo punto è salito in cielo Eh? Come cosa? Come si chiamava quello lì da panini? Parolo, ah no Parolo, parolo ha perso Quello che è andato poi, bello ragazzi, fuori Sono sfocato e andiamo così, vai così, telefono E rovesciata pazzesca che preludeva al gol di Zagnolo L'altra notizia bella di giornata è il gol di Zagnolo Ritorno al gol di Zagnolo, chiaramente con la complicità del portiere Andrenacci Andreacci, non so come si chiama ma va bene così, non lo voglio sapere Perché sinceramente è una squadra che si fa a segnare da Kalinic Merita la Serie B o merita di perdere la finale di Europa League Zagnolo è entrato Vabbè per la stima Cioè ragazzi, ha addirittura il gatto che comunque è qui a darmi fastidio Non so neanche di chi si è Mentre sto facendo il video mi sembra veramente troppo Comunque, detto questo So contento per Zagnolo e dimostra ad essere calciatore Sono una media perché dai, ritornare dopo tutto questo tempo Con questa prestazione, questa fisicità, questa presenza Io sinceramente non me l'aspettavo Ed è tipico dei calciatori forti E di gente che ci sta con la testa Che fa... Che c'ha voglia, secondo me c'ha voglia Cioè Zagnolo c'ha voglia Quando sta in panchina con un quadro, ragazzi, si mangia le unghie Sta lì, freme Trema con le gambe Perché è uno che si vede che c'ha voglia di testa in campo Poi è entrata, li dico a tutti quanti Bene così Ha segnato Giaco alla fine ha preso un attraverso e un palo Che ringraziamo il cielo perché non l'ho messo in fantaccio Ho messo il capitano, il bomber Carles Perez Se alcuni non hanno dato l'assist Adesso finita questo video Andrò subito a inviare un'email di reclamo E me ne cerò di denunce i responsabili Di denunce i responsabili E per il resto, ragazzi Diavara e Peredou Diciamo a mezzo servizio Meglio diavara rispetto all'ultima partita E meglio Bruno Perez Che è talmente scordinato Che sorprende tutti Questo è un concetto che già avevo espresso un anno e mezzo fa Quando lui stava con noi prima di andare in Brasile Ad obbligarsi nella Serie B brasiliana È tornato da noi E fa delle cose, ragazzi Stop distinco Se l'allunga Però è rapido E quindi quello lo anticipa Gli ruba il tempo Si fa fare fallo Cade, ride È tutto storto, ragazzi Che cosa meravigliosa Bruno Perez È qualcosa di strano proprio Bruno Perez strano proprio forte Spinazzolo è entrato Quello era a fine non gli andava a giocare Però ti è entrato È sembrato un pochettino più bimpante Comunque sia Il tren mi sembra chiaro Ci sono le squadre Quelle che Utilizzavano 11 calciatori solamente Che stanno andando in crisi Tutte queste piccole Stanno andando in crisi Secondo me Di fiato proprio Di gamba Adesso Perché chiaramente Incomincia ad essere tante partite Che ha accumulato Cioè È sfiancante Cioè È sfiancante quando fai i mondiali Quando fai gli europei Lo stesso discorso è adesso Sono partite sfiancanti queste E mi sembra Mi sembra Che la Roma stia prendendo Un po' di gamba Peccato per le prime partite Che abbiamo buttato Perché Si poteva fare meglio Non dico con il Milan Che comunque Che comunque Era una squadra Che ecco In quel momento Ti era superiore Di tanto Ma insomma Con l'Udinese Tuvevi sicuramente Fa meglio Non andava Non era proprio Una partita Da dove perda Abbiamo perso Quei punti lì Perché se tu li avessi Accumulati adesso Saresti vicino Mi sembra che siamo A meno 14 Dalla Lazio Non dico che avremmo preso La Lazio Però a meno 11 Potevi incominciare A guardare un po' più avanti Cioè Sono punti che hai buttato Perché adesso vedrete Quante squadre Si troveranno in difficoltà La Lazio è un'altra di queste La Lazio ha già Sempre 11 calciatori Adesso sono scoppiati Ma è normale Cioè È una cosa logica Ma come la Lazio Tante altre squadre Che hanno sempre utilizzato Quegli stessi 11 calciatori Chi è riuscito A farli ruotare Chi punta Magari anche Su un gioco corale Per esempio Sto uscendo fuori il Sassuolo Oggi il Sassuolo Io non ho visto La partita da Lazio Però ha giocato Cioè Senza Berardi E Caputo Eppure è una squadra Che gioca Perché De Zerbe È un allenatore Che ha fatto Giocare bene il Benevento Ma gioca bene pure Le riserve del Sassuolo E allora se si punta A questo Riesce ad uscirne Se punti Ad avere 11 calciatori Che fanno un gioco Standard Un gioco Sempre lo stesso Vai in crisi Vai in crisi Chi era Poi il Brescia C'è pure la difficoltà Che se devi mettere I panchi in aria Cioè Sono scandalosi Però Mi dispiace Ad aver perso Quei punti iniziali Perché Roma Avrebbe potuto Recuperare terreno Su quelle davanti L'Atalanta Vabbè In caso straordinario Qualcuno Ce lo dovrà spiegare Qualche esperto Del settore Ce lo dovrà spiegare E staremo a vedere Staremo a vedere Adesso Che c'è Io l'Atalanta Staremo a vedere Un attimino Come andrà a finire Questa partita E tireremo un po' Le somme Incominceremo a tirare Le somme sul campionato Cioè da chiaramente Andare avanti E continuare a vincere Mo vediamo Mo vediamo per esempio Il Milan Come regirà Dal punto di vista Atletico Il Milan Il Napoli No Il Napoli La rosa Ce l'ha ampia Io penso che il Napoli Continira Sta bene fisicamente Vediamo 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 ragazzi Questo è quanto Sono contentissimo Il ritorno del Zagnolo Vi ripeto Sorpreso Molto sorpreso Non mi aspettavo Potesse tornare bene così Mi dispiace Che mi assegniamo Carles Perez Sia perché L'ho messo al fantaccio Sia perché secondo me Un gol gli sarebbe servito Kalinic È un fenomeno E bene così ragazzi In difesa male In difesa male ragazzi C'è da parlarne Domani ne parliamo Ma in difesa oggi male Ciao a tutti e ciao a tutti quanti